Dignità! 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 Vedere riconosciuta la propria dignità lavorativa. E' questo ciò che oggi hanno chiesto i lavoratori a progetto di Alma Viva Catania, protestando con patti di fronte alla Prefettura. Un presidio in loro che si è svolto parallelamente all'appuntamento organizzato a Roma al Mise sul tema dei co-co-coe che assumono la valenza nazionale, perché è proprio Catania la città con il numero più alto di lavoratori che devono fare i conti con una situazione insostenibile che conduce in alcuni casi e su alcune commesse a compensi non solo al di sotto della soglia di povertà, ma addirittura della dignità appunto, con un guadagno mensile di meno di 200 euro secondo quanto affermano a fronte di un lavoro quotidiano per termini di 4 ore. Oggi siamo qui in Prefettura per denunciare quello che non sta avvenendo solamente a Catania, ma sta avvenendo in tutto il comparto TLC per i lavoratori co-co-coe. Non c'è più dignità e qualsiasi cosa viene richiesta quasi per compassione. Noi non vogliamo questo. È gente che lavora 4 ore al giorno. È gente che va rispettata. Un giorno è entrata per sostenersi dalle spese universitarie, oggi devono sostenere le proprie famiglie, così non può andare. Oggi siamo qui in Prefettura per denunciare proprio questo. Siamo di fronte a dei paradossi italiani, siamo di fronte a lavoratori che con un indice di scolarizzazione molto alto arrivano a fine mese anche a guadagnare 150-200 euro al mese. Siamo sotto il livello di dignità, siamo sotto il livello di qualunque tipologia di lavoro. Per cui i nuovi poveri, siamo qui per denunciare, siamo qui per portare avanti questa tematica, le istituzioni affinché si possa intervenire anche a livello nazionale, perché è quello che chiediamo, partire da Catania per allargarci a livello nazionale. Siamo qui sotto la Prefettura con i lavoratori co-co-co di Almaviva per rappresentare un dramma sociale del territorio e del sistema paese. In Almaviva lavorano circa 410 lavoratori con età media che vanno dai 40 ai 50 anni che vivono con redditi avvolte al di sotto di quello che è stato definito reddito di cittadinanza dal nuovo governo. La problematica nel territorio copre circa 4.000 persone e nel paese sono decine di migliaia di lavoratori co-co-co che fanno questa attività, questa professione da più di 10-15 anni e che non hanno oggi salari dignitosi e nessuna prospettiva per il futuro. Quello che chiediamo al prefetto è di porre un'attenzione, siamo i primi in Italia a farlo, verso i cittadini italiani che a oggi non hanno nessuna certezza e sicurezza e rischiano domani di entrare nel novero dei disoccupati di questo paese. Chiederemo infatti anche un incontro al MISE e oggi stesso al Ministero dello Sviluppo Economico c'è un importante tavolo proprio sul tema dei core center. Siamo qui oggi insieme a tutti i lavoratori precari, atipici, chiamati co-co-co i quali praticamente non hanno, secondo l'accordo nazionale, mai avuto, riconosciuto il loro fisso giornaliero, orario, così come ho visto l'accordo ma solo una tariffazione in base alla capacità di vendita che oggi con la crisi economica e con l'avvento dei committenti e le commesse che ci sono non riescono più a raggiungere un giusto stipendio mensile. Il problema di questi lavoratori è che ci vivono ormai da anni, sono dieci anni che fanno questa attività, non hanno sbocchi alternativi. L'età media si è alzata tantissimo, ricollocarli è molto difficile quindi si chiede un aiuto concreto alle istituzioni tutte per vendire in gondria questa tipologia e normalizzarli.